Benvenuti nel mondo degli orologi Leonidas. Leonidas è un marchio svizzero di orologi fondato nel 1841 da Julien Burca, a Saint-Imié, nel Canton Berna. Inizialmente specializzata nella produzione di orologi da tasca e da parete, l'azienda si è poi dedicata alla produzione di orologi da polso, diventando un importante fornitore di orologi militari svizzeri durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Il segreto del successo di Leonidas risiedeva nella sua attenzione ai dettagli e nella qualità artigianale dei suoi prodotti. In particolare, l'azienda si è specializzata nella produzione di cronografi. Grazie alla sua esperienza nella produzione di movimenti per orologi, Leonidas ha collaborato con molti altri marchi svizzeri di orologi di lusso, come Omega e Tissot. Nel 1964, Leonidas è stata acquisita da Oyer, un altro importante marchio svizzero di orologi di lusso. Successivamente, nel 1985, il gruppo TAG, Techno Art Gestion, guidato dall'imprenditore Jean-Claude Biver, ha acquisito Oyer e ha rinominato l'azienda TAG Oyer. Da allora, Leonidas è diventata parte del patrimonio di TAG Oyer. Oggi, il marchio Leonidas non viene più utilizzato per la produzione di orologi, ma la sua eredità è ancora presente nel patrimonio di TAG Oyer. Alcuni modelli di cronografi di TAG Oyer utilizzano ancora movimenti prodotti da Leonidas, e il marchio viene occasionalmente menzionato nelle descrizioni dei modelli di orologi vintage.